Buongiorno, oggi eseguiremo un tagliando a questa BMW 325. Diciamo che la macchina non ha grossi problemi, però il cliente la sente un po' stanca, non è più reattiva come i primi tempi. La macchina ha 169 mila chilometri, è sempre stata tagliandata in modo regolare e sente un po' un calo di prestazioni. Cercheremo di recuperarle con il solito nostro tagliando. Prima di iniziare la manutenzione del cambio manuale, dal tappo di livello che troviamo qui sul fianco, con una siringhetta leveremo un po' d'olio e inseriremo questo pulitore. Inseriremo questo pulitore all'interno del cambio e percorreremo 10-15 minuti su strada, in maniera da pulire perfettamente tutti gli ingranaggi, i sincronizzatori e tutto. Poi scaricheremo e metteremo l'olio 75-90 della Fluip Racing. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ora andremo a montare il 75-140, sempre nanotech, per differenziali autobloccanti. Questo prodotto è molto indicato anche sui BMW e MSport, dove è richiesta la specifica MSport. e siamo usciti in prova dopo il tagliando, dopo aver fatto il cambio differenziale e tutto, sicuramente notiamo che il cambio, il miglioramento, è netto, è un'altra cambiata, è una silenziosità veramente notevole, basta dare un po' di gas e sentiamo la macchina proprio volare. Silenziosa, diciamo che siamo veramente soddisfatti del tagliando di questa macchina, veramente eccezionale! Grazie per la visione! Grazie! Grazie!